Continuiamo la nostra visita della città di Padova. Popolarmente chiamata il Boho, la sede storica delle Università di Padova ospitò personaggi illustri come Galileo, Copernico, Giovanni Battista Morgagni, fondatore dell'anatomia patologica, e William Hervé che con quanto appreso nel corso dei suoi studi a Padova scoprì la circolazione del sangue. Padova è una città a misura d'uomo. Visitarla è un vero piacere perché tutte le attrazioni si trovano a pochi passi le une dalle altre. Il bello di questa città è che anche in una giornata di pioggia la si può visitare in tutta tranquillità. Si può infatti passeggiare serenamente al riparo sotto ai portici. Di fronte il duomo e il suo battistero, che è entrato nella lista UNESCO Padova Urbspicta assieme ad altri siti in città per gli affreschi del Trecento. Siamo ora nella Chiesa dei Servi. Il monumentale altare barocco della Dolorata, realizzato da Antonio Bonazza, accoglie il fedele di fronte all'ingresso. Ai lati dell'altare maggiore si aprono due cappelle. Quella di sinistra in particolare ospita il crocifisso Ligno di Donatello, una delle prime opere del grande scultore in città, è oggetto di un evento miracoloso. Se vi trovate a Padova anche solo di passaggio, non perdetevi la visione. Cappella degli Scrovelli. Vi consiglio di prenotare per tempo, per non perdere la visita. Al suo interno si trova il meraviglioso ciclo di affreschi di Giotto, opera che segnò l'evoluzione nello stile artistico del pittore. Ammirate il cielo stellato, seguite le pareti dove sono rappresentati gli episodi di Gioacchino e Anna, quelli della vita di Maria, la vita e morte di Cristo, fino a concludere con il giudizio universale, uno spettacolo davvero unico. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.